Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui dal cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi video speziato, dici tu perché speziato? Perché si provano due mazzi del bro? Allora uno, e questo qui subito, un bel Thanos ZU, che comunque frate, piccola premessa, io ho fatto solamente un cambio frate, ma me lo devi. Cioè nel senso il bro, e questo qui il mazzo non ho voluto fare altro per riservare i diritti di autore del bro. Anche perché non è la prima volta che mi consiglia dei mazzettini belli spicy da provare, quindi in qualche modo lo devo. Ma ho cambiato solamente Gladiator, per un semplice fatto, Gladiator anche ieri in live mi è costato tutto, è costato tutto. E ho messo Cagliere anche perché, raga, il principale problema di sto mazzo è che è molto sotto Destroy, capito? Molto sotto Killmonger, quindi potresti troppa uno, più le gemme, magari con Cagliere siamo un pochino più coperti, capito? L'altro è un bel Ronald, l'abbiamo imbastito con Quentin, alle 3 di mattina e dici tu che cazzo vado a le 3 di mattina invece di dormire dovete fare basti mazzi. Sì frate, però poi questa è un'altra storia. E niente, adesso proviamo subito. Proviamo intanto il Thanos, vediamo intanto con Cagliere come può imbastire la cosa. Poi frate, se tu poi mi commenti dicendo no, dovevi giocare Gladiator pezzo di merda, questo è un altro discorso. Intanto Basilo di Apos. Il ragazzo dice tu. Va bene. Daspot. Carino, va bene. Al tuo evo? Magari ce la teniamo. Magari ce la teniamo. E magari ti dirò di più, magari Titano io te lo levo. Magari Titano te lo levo. Subito. Aspetta, aspetta, fai le cose per bene. Ok, lo giochi qui intanto. Nel chill, poi c'è Cagliere da giocare. Capito? Fai tutto bello complicato. Cazzo, Camartaccio è buono però. Camartaccio è molto buono. Problema? Vabbè, fai Cagliere. Anche se non credo sia un destroy, quindi perché farlo? Dici tu in effetti giochi? Magari. Poi vedi? Mi devi dare una gemma, frate. Almeno una gemmetta così per il meme. Dici magic. Al tuo evo, ok. Al tuo evo ci sta. Non vedo perché... Vabbè, frate, ho capito. C'è anche la base, dici tu. Frate, non te lo metti di avere Camartaccio. Vabbè che alla fin fine è inutile. Perché è inutile. E adesso che fai tu? Adesso fai questo, frate. Adesso fai questo, metti Cagliera. Oppure il K ti può essere molto più utile. Ti può essere molto più utile il K. Calmo, frate. Sei calmo. Sei calmo. Anche se mi piacerebbe giocare K e Ant-Man tutte e due. Però non voglio plugarmi. Ant-Man. E questo o no mi fa le magie? Ma sicuro questo mi fa le magie. Kazar e... Dattler. Però cazzo, frate, li devo fare per forza mind. Forza mind li devo fare. C'ho ancora un po' di gemme da trovare. La realtà l'ho già utilizzata. Ragazzo. Brutta storia. Brutta faccenda. Lui mi snappa perché giustamente c'è la mano buona, frate. Cazzo, ho utilizzato la mind adesso. Cioè tu... Tu sei un cazzo di alto evo completo con l'innesto di hop. Capito? Bello. Tutte e due. Sono bellissimi, guarda. Sono bellissimi. E mo? E mo fai roba, frate. E mo fai roba. Mo fai roba, fai solo così per il me. Ma a me serve quel più uno. Come il pane. Metti che mi dà Thanos. E cazzo di dozzler. Olè, perfetto. Sai qual è il problema in tutto ciò? Sai qual è il problema? Che adesso lui... C'ha robe... Da poter usufruire. Io no. Cioè, perché il lì c'è boh. Mi ha tramortito. Mi ha tramortito in una maniera assurda. Guarda, se avessi avuto quel suspot mi avrebbe dato quella spinta in più. Manco Thanos mi ha dato. Sto bastando di mazzo. Face. Ma, frate. Hai snappato tu. Hai snappato tu. Ok. Va bene. Non lo so. Ormai io c'ho un tic verso questa parte. Nel senso che io devo sempre prendere l'acqua, capito? Io non lo so perché anche... Perché non devo bere, capito? Però sì, frate. Non lo so. Adesso devo trovare la partita, capito? Devo dire cazzate prima... Tra un game e l'altro. Perché così altrimenti ci rompiamo il cazzo. Skip intanto. Intanto skip. Cos'è? Intanto skip... Skippi e vedi. Ok. Comunque. Non lo volevo di... Oh no, cagliera. Cagliera è buona. Ma sai che c'è? Ma io ti gioco solo il cap, frate. Io ti gioco il cap intanto, con calma. Ti gioco il cap e ti gioco... E devo giocare a Cazzara, però. Mamma mia, frate. Rimpiango un enchantress in un mazzo del genere perché gli volevo fare dei danni. Ok. Adesso questo è buono. Questo. Buono. Metti anche... Metti cagliere intanto. Metti che cazzo se ne esce con... Enchantress e lui. No, non enchantress, no. Una rogue. Metti danos. Una gemma, dai. Bello. Da sta roba. Ok. Lo butti là. Queen jet. Ok. Ora, qual è il... Qual è la nota negativa in tutto ciò? Oddio, potrei fare asteroide qui. Cioè, su asteroide la reality. Così che non sono forzato di giocare il mio gazzar qui. Magari. Tu giochi solo, tu giochi... Sì, tu giochi dai, ma anche. Magari. Oppure queste tre tieni. Mi serve pescare, frate. Mi serve pescare, come il pane. Mi serve pescare. E solo con Shang non facciamo nulla. Ok, Snogert, va bene. Bene, Snogert. Loki. Gladiator. Vabbè, il cigno. Ci sta il cigno, sai. Il cigno ci sta. E comunque, ridere scherzi, ma... Gladiator per me è utile. In questo mazzo. Se tu me lo utilizzi due volte. Camartage, frate. Camartage. E... Vabbè. Turno se lo potremmo utilizzare. Ma che... Che metti? Non c'è niente di che devi mettere lì. Non c'è proprio niente. Lo sei poi volendo. Suspot è buono. Suspot è molto buono. Hop inutile. Hop è veramente inutile. Suspot. E poi non voglio pluggarmi. Non voglio pluggarmi. Nessuna ragione. Non lo voglio fare. Vabbè, valutiamo, no? Ce l'abbiamo per chiuderci. A meno che non mi dai Thanos, frate. A meno che non mi dai Thanos. Oppure... Boh, andiamo così. Con Hop, Suspot magari. Qui intanto ci mettiamo un bel po' da parte. Le robe, le faccende. Sì, dai. Anche perché qui abbiamo la space. Ok. Due carte sono le mie. Due carte in mano. C'è l'avversario, va bene. Quanto ammonti Suspot. Bello. Guarda, anche un Blue Marvel sarebbe gradito. Ho fatto benissimo. Vabbè, ho fatto benissimo. Virgola, capito? Perché adesso tu che cosa fai? Tu fai questo? Tu fai questo. C'ha le mie carte volendo, capito? C'ha due mie carte. Quindi a meno che non li ha preso Thanos. Sarebbe un pochino complicata la situazione. Però con il più uno del cap dovremmo pareggiare i conti. E via, frate. Stupisci, mi dai. Si prende anche un più due a spottino. A sinistra. E diciamo che abbiamo chiuso il cerchio. Però sai quella cosa negativa in tutto ciò? Che magari gli ha dato, boh. Tipo Dazzler. Thanos è lì. Antony è lì. Beh, non basta, va bene. Basta, non basta, non basta, non basta mai. Non basta mai. Non basta mai. Thanos diventa un bel 21. Ah, cioè, è vero, non avevo calcolato sta roba. Niente, non avevo calcolato sta roba. Mica mi ero fatti i conti delle gemme, è vero. Perché lui la mind me l'aveva distrutta con un gladiator. Bello così. Oh, pulito. Pulito. Faccio l'ultimo e poi switchiamo. Per avere un trettico. E un'idea precisa. Ora, primo game, intanto c'è capitato al tuo Evo. Secondo, un Loki. Il terzo che fai? Quanto per vedere pure la tipologia di cose che comparino con questi mazzi. Ok, neanche un Thanos manco a vederle l'ombra. Io so sicuro che mi dovranno mettere prima o poi un Destroy. Adesso sarà un Destroy. E comunque Jason del Silenzio, no, no, no. Anche meno. Cioè, nel senso. Per la mind. Gioca la qui, va. Gioca la qui. Anche la Forge. Fatti, che location del cazzo, posso dire. E sperando alla terza, fatti. Dai. Sperando alla terza, sperando in una reality. Così con la reality possiamo ragionare. Però sapete qual è la cosa un po' negativa della mind? La mind non è che ti mette due gemme, ti mette due carte di costo uno. Quindi può essere anche un Okai Antman che attualmente non... Cioè, posso... Cioè, ve lo dico un altro giorno magari di cosa ci faccio attualmente con loro. Ok. Fortunatamente ci è capitato adesso il Discard e non dopo che dovremmo utilizzare Ronan. Ok? Fortunatamente. Hai messo a spot. Dici anche loro. Dici sa spot meglio qui. Dici time manche, però. Ma dai, che cosa faccio io turno 4? Vado a 5. Cazzo, non mi serve. A meno che tu non mi dai gazzarra, più gemma. Schippolo. La mind, frate. Se mi vuoi bene. Bravo. Quindi devo credere nel cuore delle carte, frate. Devo credere. Sala spot. Antman, ok. E... Vai. Tagliare e proteggi il mostro. Anche se penso che non ce ne sia bisogno. Time. Così poi turno... Turno 6. Puoi fare un bel Thanos qui sull'isola del silenzio. Buttagli giù è là. Per cazzo, frate. Questo è bello incazzato. Dazzo, sì, 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 ci sto. Allora, c'è una cosa da dire. C'è una cosa da dire. Cioè, Thanos sì. Ma anche Thanos no. Perché io... Converrete con me che già fare una roba del genere a me può dare veramente tante cose. Ti metto anche una sentinella in mano perché non si sa mai. E poi via. Tu come ti chiudi? Ti chiudi così, ti chiedi così. Oppure anche qui magari. E qui devi giocare carta. Per forza carta. E vai, dai, improviamola. Proviamo così. Proviamo così. Dammi la sentinella che fa sempre comodo. E adesso... Oh, vedi? Vedi come mi delizio di robe. Adesso... Soul. Power. Sentinella. Magari. Qui fai Antman. Cap. E qui vi metti un più uno così per ridere. Perché c'ho più, quindi... Potrebbe capire che... Sono un pochino sotto. Ok, ciao. Bello. Pre-game belli chiusi. Anche col Discord... Sì. Vabbè, non avrà trovato era. Sicuro. Oh. Switch mazzo. Ronan. Adesso, qual è il problema fondamentale di Ronan, frate? Il problema fondamentale di Ronan... Stende il piano su Zhu... E il Killmonger con il Destroy. Qui invece il Discord... Il Discord... Potete ben pensare. Il Discord è quello vero e proprio con Modocca. Noi ci distrugge avendo Ronan. Tanto Proxandar... Mi delizia. Mi delizia di robe. Vabbè... Jeff è buono ma anche il Barone, frate. Il Barone... Il Barone ci sta. Il Barone ci sta. Che poi c'è anche una variante carina. Cioè, fortunatamente che mi è uscita la... La... La cazza di variante con The Nip. Porco, Vinci. Non avete sentito niente? Spettacolo. Spettacolo. Lo stavano in Targata. Spettacolo. Bella hop. E credo che non c'è nulla... Però intanto io te la posso settare, sai. Te la posso settare facendo Jeff. Spostando, facendo robe. E... Questa è una snap, mi sa. Bello. Calma. Calma ragiona. Calma Zabbu. Calma Jeff. No? Sì. Perché poi tu, un 1-5, vuoi fare Iron Lad Maximus, no? Vabbè, questo è un briaco. O è un bot. O è un briaco o è un bot. E tu, ti stai sorseggiando il tuo cocktail alle... Dico che ore sono perché... Mi potrebbero anche dare per pazzo. Aspetta, Daredevil. Aspetta Daredevil. Aspetta Daredevil. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. E... Dopo che giochi qui... Mi ha scoperto le carte del mazzo. Insomma. A me conviene adesso, attualmente. Mi conviene, no? Vabbè, con calma. Lo puoi fare dopo. In un secondo momento. Cioè, non penso che lui mi faccia profix in mezzo. Capito? Dipende anche il più uno di Hop Summers. E... Via. Capito. Ok. Perfetto. Snap. E le vedete al cazzo. Ciao. Forse sono stato troppo cattivo. Forse sì. Ma non ci ho capito niente di quello che c'era sto mazzo. E ricordatevi. L'importante è dare il rispetto reciproco all'avversario. Per Mabban inevitabile. Frate, e che cazzo? Eh. Sto facendo un discorso serio. Nebula. È uno scontro. Perfetto. Vediamo. Ora so curioso di vedere come affronta un Thanos a sto mazzo. Valle della mano. Soul. Ok. Mi va benissimo la solo sul Nebula, sai? Fa molto bene. Perché tu adesso che fai? Carichi su Kiln. Il Master Mold comunque è molto buono. Dimmi che non hai la mind. È Syro, però. E Syro. Ok. Adesso questo è molto buono. Cioè lui dà veramente tanto fastidio. Ma anche il Barone, frate. Anche il Barone dà fastidio, sai? Potremmo tentarla. Sì, dai, Barone. E poi la chiudi con la Nero Lad. Sperando che sia qualcosa. Interessante. Ah, è vero. Lei può usare contro di me, ovviamente. Sì. Ok. Bello. 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 E allora Lad prendesse Jeff. Pure. Volendo. No. La miss sarebbe il top, sai? La miss. La miss sarebbe il top. Anche se c'è... Sia Master Mode che Barone lì. Settate, quindi. Metterla in due campi. Che cambierebbe l'asilo. Che metti? La pazzo. Top. Top, frate. Adesso che fai tu? Adesso fai Ronan. Fai Ronan. E poi la chiudi con. Vabbè, c'è Shang Zabbo. Premise. Sì. Sì, frate. Sì. Sì, frate. Cosa mi può battere? Un... Doctor Doom. Doctor Doom mi batte. Doctor Doom mi batte alla grande, cazzo. Però non posso non chiamarlo. Cioè, non posso temere Doctor Doom in questo caso. Ce l'avrà nel mazzo. Cioè, non posso... 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 next ok comunque ogni volta che mi avvicino sempre di più alla vetta cioè boh non lo so è come se questa situa non mi vogliono far arrivare subito infinite sti pazzi che devi fare gioco magneto bravo lui tanto di cappella al ragazzo visto che c'erano pure primo se non erro quindi e va nulla nebula nebula sulla storia che mi gusta nico ma vuoi vedere che vuoi vedere che il destino è andato da adesso bello però zabbo ci sta zabbo sentinella perché sta roba perché giochi la sentinella pixel a parte questo questo è un problema sai questo è decisamente un problema fai hop lì fai hop lì frate fai hop lì che Morag mi distrugge tutti i piani oh come potremmo mettere ok come potremmo mettere Ron in qualche maniera lì eh vabbè sti cazzi e la potremmo mettere guarda che non posso neanche far la missa e da e su e su e su e che cazzo vabbè il problema è questo oddio potremmo fare subito dottor doom per essere questa è molto buona come roba bene grazie ti gradisco e poi che fai poi puoi fare barone Ronan qui questo è anche vero vediamo ragazzo snappato insomma eh si è per forza la chiudi così per te per forza così la devi chiudere peccato per la missa lì a sinistra oh boh sti cazzi nel senso poi gli metti anche tre punti in più su cosa nel senso vai a 14 punti al centro amica ragazzi il problema suo il problema suo è che c'ho 7 carte miele 6 carte miele nel mazzo in mano non nel mazzo per te devo prendere un cazzo di volo dopo ma proprio in darico con cuscino e letto oh vabbè che da dell'assurdo penso aha aha e lui gioca la missa lì e lui gioca la missa lì e pe 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 vabbè maximus ronan maximus ronan e la play però c'è più lui come faccio a non giocarti frate come faccio rimane master mold in mano non ci faccio nulla io qua così mamma quanto sto godendo frate quanto sto godendo non ha idea ragazzuoli i mazzi li abbiamo provati fatemi sapere qual è stato quello tra i due che preferite di più e fatemi sapere se li giocherete anche perché sono stati dei mazzi molto divertenti da poter giocare e abbiamo in qualche modo rotto le linee meta che tanto noi odiamo